E allora, eccoci qua ragazzi, eccoci qua, dopo l'intermittenza Champions League, la pausa Champions League, eccoci tornati a commentare la Serie A ed ero molto molto curioso proprio a partire dal Milan. Ero tanto tanto curioso e vi spiego anche perché, perché prima di spiegarvelo iscrivetevi al canale in questo momento e lasciate anche tantissimi mi piace se no l'avete già fatto. Vi stavo dicendo, vi spiego perché, perché il Milan partiva con un'idea ben delineata, chiaramente ben delineata, però era un'idea che mi faceva domandare, hai preso 5 gol nel derby, perché li hai presi, ok? E per quanto possa essere una singola partita, ha un peso specifico. Perché ha un peso specifico? Un peso specifico che poi hai riversato anche in ottica Champions League, perché oggettivamente la gara contro il Newcastle è una gara che ti vede attaccare, che ti vede creare, che ti vede costruire, che ti vede aprirti delle possibilità importanti, però poi la palla tu di fatto non la butti dentro. E quindi dalla Champions League che cosa tira fuori il Milan? Uno scialbo 0-0 che, essendo il Newcastle, uno può anche dire, ci sta, riflettendo che affronti il Newcastle, ma in casa tua, con un girone dove ci sono anche Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, magari ti fa fare un po' più di fatica mentale. E allora a quel punto che cosa si apre? Si apre il discorso di dire, adesso però a Milano arriva il Verona. Un Verona che comunque finora ha fatto una discreta figura, sconfitto tra le altre cose anche la Roma. Un Verona niente male, un Verona tutto sommato ottima squadra. Ecco, tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire che comunque il Milan doveva dare una risposta importante. La domanda che vi faccio è, c'è stata la risposta importante? A tratti sì, a tratti sì, ma arriviamoci un attimo per gradi. Perché per gradi? A proposito, più che per gradi dovremmo parlare per temperatura, perché il Milan non gioca col Verona, non giocano per 25 minuti. Io ero lì che riflettevo sul fatto che molto probabilmente questo video voi non l'avreste mai visto oggi, perché credevo, per come si stava mettendo la situazione, che la partita non ci sarebbe stata. E pioggia, e diluvio, e grandi, c'era una pozza ovunque. Addirittura a un certo punto la cosa clamorosa è che si stava imbiancando il campo. Cioè, per farvi capire proprio la situazione clamorosa che stava accadendo a Milano. Poi però, per fortuna della gara, per fortuna del Milan, per fortuna magari dei tifosi del Verona che volevano vedere il Verona, per fortuna del Verona, per fortuna un po' di tutti, la partita si gioca. Si entrano in campo due giocatori, uno del Milan e uno del Verona, credo Leao e non credo Faraoni, non ricordo comunque. Uno per parte, testano il campo, entrambi dicono, per me si può giocare, per me si può giocare, e si gioca. E è clamoroso che, allora, inizialmente in realtà il Milan proprio nei primissimi due minuti qualche cosa concede, nel senso che un'occasione il Verona se la ritaglia, ha un'opportunità, gli scappa via al Milan qualche incursione del Verona. Però, 25 minuti per iniziare, ci mette 6 minuti Leao a sbloccare la partita. Una partita che, se tu non riesci a sbloccare in quel frangente lì, diventa tutto molto più complesso. Ma tutto molto più complesso. E lo fai, innanzitutto, grazie a due errori difensivi del Verona, perché il Verona sbaglia. Il Milan riparte, sbaglia il Milan ripartendo, palla di una Valverona che risbaglia, e lì poi il pallone finisce a Leao. Ecco, lì secondo me il fattore pesante è quello di Leao che prende palla, si immola e va a bugare il portiere. Tra l'altro, facendo un gol molto simile, mi fa sorridere a tutti quelli che io solito faccio su FIFA, perché su FIFA faccio sempre tipo, mando avanti il giocatore triangolo, lancio il giocatore che appunto va a fare gol. E questo è quello che ha fatto sostanzialmente Leao, è arrivato tu per tu col portiere e poi il pallone che si incunea dalla parte opposta. E lì Leao porta avanti il Milan. Tra l'altro, dando una grande risposta, è che nelle ultime settimane ho visto che c'era chi criticava con grande tranquillità Leao, definendolo un po' sopravvalutato, un pochino sottotono rispetto a... Io gli ho detto, ragazzi, nel senso, non è che se il Milan non riesce a vincere una partita, perde l'artita 5-1, quel di che Leao diventa una pippa. Cioè, non ve fate sti castelli inutili. Anche perché pure l'anno scorso Leao ci sono stati tre partite dove ha fatto schifo, per colpa tra l'altro del sistema di gioco diverso, perché lì il Milan andava a giocare con una difesa a tre invece che una difesa a quattro, e quindi giocava con un sistema tattico completamente diverso. Però in quel frangente lì Leao faceva un po' di fatica, no? E quindi io vi dicevo, raga, state calmi, perché poi vedremo Leao, e quando vedremo Leao poi esplodere e distruggerà tutto. Poi è stato così, quindi di fatto non avevo grossi dubbi. C'è un importante slide door in quella che potrebbe essere la stagione di questo Milan, ovvero sportiello. Allora, il Milan settimana scorsa, anzi tre giorni fa, ha perso Magnan, e io nel video vi ho parlato principalmente di questa cosa. Perché? Perché i rossoneri, circa un anno fa, più o meno di questo periodo, credo, ma non ricordo esattamente, i tifosi del Milan se lo ricorderanno sicuramente meglio di me, hanno perso Magnan. Quando si è infortunato Magnan, da lì è successo il devasto, perché il Milan aveva solamente Tataruzano, ha provato a prendere Mirante, ma poi non l'ha fatto praticamente mai giocare, e con Tataruzano in porta il Milan non aveva, uno, certezze, perché i giocatori si vedevano, i difensori si vedevano, avevano paura di lasciar passare il pallone. Due, non avevano un portiere forte, perché ora al di là della certezza e dell'incertezza che ti può dare un portiere, parliamo anche del fatto che, insomma, Tataruzano non era sto gran portiere, non lo è mai stato, ok? Cioè quando addirittura doveva venire a Roma da secondo, che era la Fiorentita, io mi lamentavo, dicevo no, vi prego, non prendiamo Tataruzano come secondo, perché non lo voglio vedere manco come secondo, ok? E quindi l'anno scorso il Milan faceva tanta fatica. L'investimento intelligente di quest'anno dei rossoneri è stato quello di andare su Sportiello, che l'hanno preso circa un anno fa, sei mesi fa, sette mesi fa, cioè a gennaio, già si sapeva che Sportiello sarebbe andato al Milan. E la cosa che mi ha stupito è che nonostante poi Musso fosse tornato a pieno regime con la maglia dell'Atalanta, comunque continuava a giocare Sportiello. Quindi a un certo punto, non essendoci pre-contratti firmati né niente, io iniziavo a domandarmi, ma non è che con questo Sportiello in forma gli si dica guarda rimani a Bergamo perché l'altro sei tutto titolare, non andare al Milan a fare il secondo, che poi ci poteva pure stare, poi però l'Atalanta c'aveva carne secca, c'aveva Musso eccetera, che Sportiello se n'è andato, se è accasato quindi al Milan. Per me questo è un gran colpo, perché poi lo vediamo anche oggi che un paio di volte succede che il Verona attacca, che è pericoloso, che si fa vedere, che si inserisce, che si crea le sue possibilità, e poi che succede però? E poi succede che Sportiello para, e questa è una cosa che non è scontata, perché a te te manca un giocatore come Maignan, a questo punto della stagione, magari salta uno, due, tre, quattro partite, se quelle tre, quattro partite non riesce a fare punti, fai fatica, succede qualcosa che non va, ecco, avere un calciatore come Sportiello, a mio avviso, può aiutare tanto. E poi soprattutto, parlando della gara in sé, parliamo anche del Verona, perché per me il Verona ragazzi ha degli interpreti molto, 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 molto interessanti, vi parlo prima di tutti di Ingonge, cioè per me Ingonge è un giocatore forte, io ve lo dico con grande tranquillità. Il Verona ha trovato un altro gran giocatore, se dovesse riuscire l'Ellas a tenere Ingonge e a renderlo un calciatore, diciamo, competitivo per tutta la stagione, per me a fine anno ce lo ritroviamo da qualche altra parte, con un'altra maglia che pesa sicuramente di più, con un'altra importanza e con dei soldi, appunto, differenti rispetto a quelli che prenderebbe a Verona e che sposterebbe. Detto questo, Giroud è importantissimo, anche Giroud nel contesto della partita, è importantissimo Giroud per come si mette la partita, è importantissimo Giroud per quello che fa nella partita, ma una cosa, anzi, due cose vi devo dire che mi hanno fatto molto piacere e una cosa che mi ha fatto strano. La cosa che mi ha fatto strano è che oggi la formazione era particolare, cioè voi come la giudichereste? 3-4-3 o 4-3-3? Ve la spiego, questa mia domanda. Perché? Perché è un 4-3-3 tecnicamente, con Florenzi e con Ciao adattato, però realmente era un 3-4-3, quindi con Ciao, con Chier e con Tomori. Ora, perché vi faccio questa domanda? Uno, perché Musa era una mezzala che tendeva ad allargarsi e tendendo ad allargarsi creava un qualcosa di diverso, anche se poi io Musa me lo vedevo meglio come mediano, non l'abbiamo mai visto, oggi lo vediamo titolare per la prima volta, niente male, devo dire, però in un ruolo completamente diverso dal suo. Due, rivediamo Alessandro Florenzi, che non è scontato per niente, considerando tutto il calvario che ha passato, tutto ciò che gli è successo, e secondo me era una situazione che bisognava necessariamente valutare e vedere. Tre, perché non è finita qua, perché non è finita qua, voglio considerare anche il fatto di un layout che funziona con un Milan che è improntato alla difesa 3, al centro campo a 4, al 3-4-3. Voi direte, sicca, ma allora che cosa cambia? L'intelligenza di Stefano Pioli, nel senso, quando Pioli giocava con la difesa 3, Leao lo metteva da seconda punta, giocava nel 3-4-2-1. Leao nel 3-4-2-1 non ha possibilità di fare quelle sgaloppate sulla fascia che tanto gli piacciono. È chiaro come se tu sulla mia fascia mi metti Teo Hernandez giocare con il 4-3-3 o giocare con il 3-4-3, però con Florenzi invece che Teo un po' più avanti più o meno è la stessa storia, perché tanto Teo Hernandez ragazzi gioca avantissimo, cioè quindi sotto questo punto di vista non ha senso, non ha senso, non ha senso secondo me. E mi sono un attimo perso. E quindi invece in questo frangente mi fa molto piacere vedere un Leao che intelligentemente schierate in una posizione, in un sistema tattico particolare, perché quello è un sistema tattico particolare, se la gioca più avanti, ok? E c'ha tutto lo spazio sulla fascia. E poi la difesa 3 del Milan! E poi la difesa 3 del Milan! Quanto è importante vedere come Tomori, Chiare e Ciao si trova in una difesa 3. Ecco, per me questi sono aspetti fondamentali, veramente, veramente fondamentali. Detto questo, sono tre punti veramente importanti per il Milan che riaggancia l'Inter, ma insomma deve aspettare che l'Inter giochi, si riporta al secondo posto, ma devono giocare praticamente tutte 4K in Lecce, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Vi invito, se non l'avete già fatta, di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace, buon c'è l'alline come sempre. Ci vediamo al prossimo video!